in questo campionato con il motocambianco ma è voglioso di ecco che prima dove ci poi arriva il tiro e la parata del portiere del serentino. Navarra prende il passaggio per Cardinali colpo di destra attenzione poi al tiro e la palla che termina fuori in mezzo adesso c'è il tiro e la parata del portiere il tiro di Oriano. Stavolta è buono il movimento dell'attaccante che comincia a dire che la mette in mezzo. Gabriele Sposso che arriva come all'ultimo istante. C'era ancora Begliutti di testa poi Navarra apre per Arguini il tiro e la parata del portiere Langhi. Poi arriva Sabato e la mette in mezzo il portiere Langhi ancora fa suo il pallone. Serve per Arduini con il segnistro, dovrebbe provare a tirare il portiere Langhi e poi una grande occasione per il Fiorentino. Un po' di testa ancora una grande occasione stavolta però la palla lambisce il palo. Cori per Galeazzi la mette in mezzo, ancora non cerca la presa. Il portiere la traversa di Salvatori. Agraghi anticipato da Cassini però riesce a tenere il pallone. Il passaggio è libero e sposato ancora per Caparelli che mi haffermato il pallone e il pallone. Una grande occasione! Guardate qui! Segui per Galeazzi sono comuni! Scara per Galeazzi! Sono sicurezza della roma di Galeazzi per Gale Generale della N Court E' anche per Galeazzi per Galeazzi per Galeazzi per Galei che ci va davvero nel nostro paese. Il pesante di Giovanni per Galeazzi per Galeazzi per Galeazzi per Galeazzi per Galeazzi è un'un oltre che vuole di cento di appassare la palla. Grazie a tutti